Tu e adesso non ci sono più ostacoli di trattare il tuo poliziotto, no? Mi sa che sono io l'ostaco. Permettimi di starti vicino, ti prego. Di qualunque cosa tu abbia bisogno, io ci sono. Basta che ti affaccia la finestra e guardi giù. Guarda che se non te lo prendi tu, se lo prende qualcun'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.